Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Dangerisk, io sono Rob e oggi finalmente parliamo di una novità decisamente ben accolta. Iniziamo! Pare che finalmente ci siamo. Finalmente Battlestead Games ci ha dato una finestra di tempo per cui potremo attendere realmente l'aggiornamento di Tarkov. A quanto pare manca davvero poco, cioè è un sun 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 ma più definito. Leggiamo la traduzione anche effettuata dal leader della community italiana Dino, che ringrazio infatti, è presente sul forum ufficiale di Tarkov. Quindi ecco, queste non sono speculazioni ma è la traduzione del comunicato ufficiale di Nikita o comunque sia di Battlestead Games sullo stato dei lavori della 0.12. Ciao cari amici, siamo quasi pronti, tutto è stato incorporato e testato. Al momento ci sono alcuni bugs dovuti alla grande quantità di dati e codici da dover riscrivere, riguardanti alla migrazione del nuovo engine. Ma quello è ciò che noi ci stavamo aspettando, è che vi avevo anche anticipato quando era luglio uno degli aggiornamenti che era stato fatto, avevo detto secondo me da quello che hanno scritto arriverà a settembre, ma a quanto pare arriverà a metà ottobre. Pertanto voglio avvisarvi che la nuova patch avrà sicuramente qualche bug e problema che poi risolveremo il prima possibile con i prossimi hotfix. Crediamo comunque che andrà tutto bene e appunto per questo stiamo controllando tutto in questo momento. Questi test che stanno facendo, li stanno facendo molto probabilmente per cercare di eliminare alla base quelli che possono essere i bug game breaking. Quindi quei bug che ti possono proprio distruggere le esperienze di gioco, che possono far crashare e tornare a Windows il game e così via. Che ovviamente all'inizio poi creerebbero una marea di polemiche, una marea di proteste, anche se tutti questi problemi qua sono stati già accennati in precedenza in ogni patch note praticamente. Abbiamo iniziato a preparare una lista di comandi di fix e vedrete voi stessi la quantità di lavoro che abbiamo svolto. Non dovete rimanere delusi, che poi non dovete rimanere delusi, siamo un po' in posizione, diciamo che non rimarrete delusi. E se alcune cose che volete nella 0.12 non ci saranno, probabilmente alcune cose promesse verranno fatte slittare per evitare di riportare la patch in uno stato di criostasi in pratica e di attesa. L'unica vera domanda che vi fate tutti è quando? Diciamo che ci servono circa due settimane da ora, quindi è stato annunciato ieri il 27, due settimane sarà metà, piena metà di ottobre. Potrebbe essere di più, ma potrebbe essere anche un po' prima. Vabbè, nel sistema metrico di Nikita questo significa di più. E sicuramente ci sarà un evento pre-wipe, ok? Diciamo che potremo organizzarci e capire che la patch sta arrivando dal momento dell'evento pre-wipe. Se non vi ricordate di che cosa si tratta, l'evento pre-wipe di questa volta sarà caratterizzato dalla impossibilità di mettere le cose all'interno del gamma container. Nel senso, noi potremo uscire in ride con degli oggetti all'interno del gamma container, ma nel momento in cui li togliamo fuori non potremo più rimetterli all'interno. Così anche per gli oggetti che troveremo all'interno del ride. Se noi troviamo una chiave, se noi troviamo una cosa che ci piace, la possiamo prendere, ma non possiamo metterla all'interno del gamma container. Questo è fatto per capire come i giocatori si comporteranno con questo tipo di esperimento. Siamo veramente grati della vostra pazienza ed edizione. Questo fa sentire il nostro lavoro importante. Grazie. Il team BSG. Beh, signori, non ci sono informazioni riguardo aggiornamenti precisi del sistema di gioco, di aggiunte, cose del genere, ma è stata più una nota di rassicurazione su quello che è lo stato dei lavori. Perché ovviamente adesso Tarkov è molto deserta come realtà. Le persone comunque non fanno altro che chiedere del wipe. Quando viene postata una foto anche su Instagram, su Twitter, non si fa altro che chiedere del wipe. Quindi mi immagino anche loro da parte di Battlestate Games che si erano abbastanza frustrati perché magari dicono facciamo vedere questo bel contenuto, abbiamo fatto, non lo so, un'arma nuova, abbiamo messo, cambiato le texture, l'illuminazione. La gente non fa altro che dire give wipe, give wipe. Quindi posso capire la frustrazione. Beh, ragazzi, inizia il countdown. Due settimane circa e noi ci stiamo sperando tutti quanti. Beh, fatemi sapere che cosa ne pensate. La Dangerous per ora è tutto. Signori, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nemmeno un caricamento. Lasciate un bel like al video e fatemi sapere la vostra qua sotto. Se volete supportarmi, sempre qui nella descrizione avete il link del mio Patreon e il link referral di Gamivo per acquistare giochi a prezzi scontati. E noi, come al solito, vi vediamo sul campo. Grazie.